Benvenuti in questa puntata di informazione scientifica di MTI. Lunedì pomeriggio, ora italiana, un gruppo di ricercatori astrofisici di Cardiff e del MIT ha divulgato la notizia del ritrovamento di fosfina nell'atmosfera di Venere. Ma questo significa che abbiamo trovato veramente la vita su Venere? Se vi accontentate della versione breve, allora no. È stato un piacere informarvi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ma se volete qualche dettaglio in più... Quindi cosa significa che siano state rilevate tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere? Per rispondere è però necessario dare qualche piccolo dettaglio in più sull'argomento. Il fosfuro di idrogeno, la fosfina appunto, è un gas che si può generare da procedimenti metabolici di microrganismi anaerobici. Quei batteri che vivono e anzi prosperano in assenza di ossigeno ne abbiamo anche sulla terra nelle profondità marine e nelle vicinanze di solfatare, per esempio. Tanto per capirci, questi microrganismi mangiano acido solforico ed espellano fosfina, bruciori di stomaco non pervenuti. Comunque già da 60 anni si ritiene su idea di Carl Sagan che una parte dell'atmosfera di Venere possa essere conforme ad ospitare vita anaerobica, poiché composizione, temperatura e pressione sarebbero conformi a nostre esperienze dirette sulla terra. Intanto la presenza di vapore e acqueo su Venere sarebbe di solo lo 0,01% del totale e l'ossigeno libero di sole 20 parti per milione. Un'inesia rispetto alla situazione terrestre e un ambiente fantastico quindi per gli organismi anaerobici. Tra i 20 e i 60 chilometri d'altitudine si avrebbero poi temperature tra i 140 e meno 10 gradi centigradi, con pressioni da 3,5 a 0,25 atmosfere. Sono valori nel range di esempi di vita anaerobica qui sulla terra. Infine Venere presenta un ciclo convettivo atmosferico molto particolare e stabile. Grandi flussi risalgono dall'equatore per poi ridiscendere ai poli creando uno strato di nubi molto esteso che possono durare per anni. La differenza con quello terrestre è palese. Venere è molto più omogeneo e prevedibile nei movimenti atmosferici. Ma ritorniamo però alla fosfina. In un ambiente come quello di Venere appena descritto risulta particolarmente volatile ad alte pressioni e temperature come quelle vicine alla costa del pianeta. Questo significa che nell'ambiente vesuviano in cui delle megacelle convettive trasportano l'area continuamente dalle zone alte a quelle basse dell'atmosfera, cioè vicine alla costa, la fosfina presente dovrebbe disgregarsi e pertanto tendere a scomparire se nulla la rimette in circolo. Proprio qui arriva la vera scoperta dei ricercatori di Cardiff e del MIT. Dopo diverse osservazioni a distanza di anni e con differenti strumenti astronomici hanno rilevato che il livello di fosfina nell'area di Venere è tutto sommato stabile tra i 40 e i 60 km dalla superficie. Unendo quindi i puntini di tutte le premesse precedenti si può notare come la presenza di fosfina a livelli stabili in un ambiente come a quello vesuviano si possa mettere in correlazione diretta con la presenza di vita. Dopo questa ricerca verrebbe da rispondere sì, ma in realtà la stessa ricerca non è escluso la nostra ignoranza nei processi geologici di pianeti extraterrestri. Questi potrebbero far sì che si generi della fosfina in maniera naturale ma con un processo a noi ancora ignoto. Inutile dire però che questa scoperta abbia finalmente riacceso l'interesse su Venere soppito da anni, ci eravamo focalizzati troppo solo su Marte, quindi spero che nei prossimi anni partiranno nuovi progetti di esplorazione anche su Venere, spesso accantonati nei finanziamenti proprio a favore di quelli marziani. La teoria su come la vita potrebbe comunque sopravvivere su Venere, sebbene in una ristretta fascia, è sicuramente interessante perché trova già corrispondenze nelle nostre osservazioni qui sulla Terra. Prendiamo per esempio i tardigradi, nettamente più grandi e complessi di un microrganismo, che hanno già dimostrato di poter resistere per lunghissimi periodi visidratati, ad alte e basse pressioni, temperature e livelli di radiazioni. Perché quindi non pensare che un microrganismo che viva in goccioline di acido solforico trasportate dai cibi convettivi di Venere non possa sopravvivere grazie alla creazione di un guscio protettivo e al suo mettersi in stasi quando attraversa aree per lui non congeniali? La risposta a questa domanda è sicuramente affascinante, ma dovremo attendere ancora per una risposta definitiva. Intanto vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e commentare per farmi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao! Ciao!